Ben trovati alla terza edizione del TG6. In apertura la giornata della memoria per i caduti nei campi. L'Abruzzo è tra le regioni italiane con i più alti indici di infortuni e decessi sul lavoro, soprattutto nel campo dell'agricoltura. Se ne è discusso nel corso di questa giornata istituita dalla regione Abruzzo, alla presenza anche del sottosegretario di Stato alle politiche agricole Giuseppe Castiglione, arrivato a Teramo all'Università. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. L'Abruzzo è tra le regioni italiane con i più alti indici di infortuni e morti sul lavoro. Gli ultimi dati dell'Ina e del 2015 parlano complessivamente di 15.000 infortuni e 29 morti. Nel settore dell'agricoltura gli infortuni sono stati 1.800 con 4 decessi. Se ne è parlato all'Università di Teramo che ha ospitato la giornata della memoria per i caduti nei campi in agricoltura istituita dalla regione Abruzzo. È giusta una giornata della memoria per i caduti nei campi, ma i caduti continuano ad esserci. È ovvio che i caduti continuano ad esserci. Purtroppo, soprattutto nell'Abruzzo, nella provincia di Teramo, che è un'economia, quella parte interna, agro-passorale molto importante, ce ne sono sempre di più. Questo indice di frequenza ci colloca l'Abruzzo fra le prime regioni, diciamo così, per infortuni mortali. Per quanto riguarda l'agricoltura, invece, nel 2015 abbiamo avuto una diminuzione degli infortuni mortali. Sono stati registrati 4 infortuni mortali in agricoltura. Nel 2014 sono stati 8. E anche per quanto riguarda gli infortuni, ci attestiamo per l'agricoltura intorno ai 1.800 infortuni. E siamo anche qui in una leve flessione rispetto al 2014. Una giornata della memoria, dunque, per rendere omaggio a quanti per fare grande l'Abruzzo, hanno trovato la morte nei campi, ma anche per riflettere sulle misure di prevenzione da mettere in atto. E su questo argomento è intervenuto direttamente il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Giuseppe Castiglione. È giusto ricordare i morti sui campi, per quanto riguarda il lavoro in agricoltura, ma è importante anche la prevenzione? Il governo cosa fa? Sicuramente il governo su questo punto si è impegnato tantissimo. Siamo partiti con l'iniziativa di campo libero, ma poi siamo arrivati alla legge sul caporalato, che penso sia una delle leggi più avanzate, una legge che porta giustizia, una legge che finalmente riesce a individuare il reato di sfruttamento del lavoro, il reato di intermediazione illecita. Quindi ci sono una serie di iniziative fatte dal governo che mettono insieme non solo l'istituzione nazionale, non solo il governo nazionale, ma anche l'istituzione territoriale. Ora la cronaca, Palmerio Carulli, 79 anni di manoppello, il ciclista che è stato investito e che è morto in un incidente stradale, verificatosi in mattinata in località Brecciarola di Chieti. L'uomo a bordo della propria bicicletta stava transitando quando sarebbe stato investito da un camion. Ovviamente dei rilievi si è occupata la polizia stradale di Chieti. L'uomo è morto durante il trasporto in ospedale, quindi nell'ambulanza del 118. Ed ora la sanità. L'intersindacale sanitaria incontra un rappresentante della prefettura all'Aquila per discutere delle scelte regionali sul personale sanitario. Vediamo insieme il servizio di Filippo Tronca. No alla nomina dei superdirettori da parte della regione nelle asle abruzzesi. A chiederlo con forza l'intersindacale sanitaria, che ha incontrato rappresentanti della prefettura dell'Aquila e la controparte, il direttore del Dipartimento Salute della regione, Angelo Muraia. A parere dell'intersindacale, queste nuove figure, che saranno 8 o 2 per ciascuna delle 4 asle, sono superfule e costeranno troppi soldi. Di avviso ben diverso il direttore Muraglia. Sono figure necessarie a far funzionare meglio la asle, ha spiegato, soprattutto in un'ottica strategica, cosa che porta di solito a riduzioni di sprechi e inefficienze. Quello dei costi è poi un falso problema, assicura Muraglia. Le nomine potranno essere anche interne al personale della asle. Siamo qui a parte perché il prefetto ha convocato le parti per cercare di mediare la posizione dell'amministrazione regionale e la posizione dell'intersindacale sanitaria. Noi abbiamo obiettato una delibera, una delibera che dovrebbe riorganizzare le asle e che sono gli atti aziendali. La regione ha emanato una delibera e in questa delibera, che dà alle asle alcuni obiettivi, ci sono delle illegittimità secondo noi. Noi abbiamo dato mandato a un avvocato esperto in diritto sanitario che ha sollevato delle illegittimità che sono sul versante ospedaliero il direttore della funzione ospedaliera e sul versante territoriale il direttore della funzione territoriale. Non si capisce bene come si nominano perché si parla di un concorso ad evidenza pubblica dove possono partecipare tutti i medici, tutti coloro che hanno una laurea in medicina e chirurgia e hanno sette anni di anzianità, dicasi sette anni di anzianità, dovrebbero essere super esperti e dovrebbero collaborare con il direttore generale, un maestre dalla Bocconi, dimenticavo di dire e sono contrattualmente equiparati a un direttore di dipartimento. Quindi vuol dire che un medico dirigente di primo livello, perché non può essere più di tanto avendo sette anni di anzianità, prenderà lo stesso stipendio di un direttore di dipartimento. Allora intanto non c'è nessuna nomina nelle asle di questi due superdirettori. Sono due funzioni che la Regione ritiene necessarie per poter governare i processi di produzione ospedaliera e i processi di produzione territoriale. Come siamo arrivati a questo punto? A dare praticamente queste linee guida per la riduzione degli atti aziendali che, ripeto, è compito della Regione dare delle linee guida alle aziende. Perché se noi siamo la holding, i rami di azienda sono le aziende sanitarie locali della nostra Regione. Quindi abbiamo ritenuto necessarie queste due figure per governare meglio quei processi che attualmente, a parere nostro della Regione, non sono governati a dovere. A Pescara sono stati presentati dall'assessore regionale Donato Di Matteo i progetti ammessi al finanziamento europeo PORFESR 2014-2020 nell'ambito della tutela e della valorizzazione delle aree verdi e delle risorse naturali. Sono 7,5 milioni di euro a disposizione. In questi bandi vediamo il servizio realizzato da Paolo Renzetti. Sessore Di Matteo, si parla di fondi europei destinati ai parchi, alle riserve abruzzesi, alle osi. Un punto importante, come ha detto lei, non di arrivo ma di partenza. Sicuramente, intanto va rimarcato che è la prima volta che la Regione Abruzzo fa un bando e una graduatoria per risorse da destinare alle aree protette. Il secondo aspetto importante è che noi abbiamo introdotto una tempistica che a breve mette nelle condizioni di poter realizzare e rendicontare le opere entro l'estate del 2018. Il terzo aspetto è che queste opere hanno una strategia complessiva per cui ci muoviamo nella direzione di valorizzare le aree della montagna e le aree protette, soprattutto tutte le aree protette, in ragione di una strategia per aumentare l'appeal turistico e promozionale della nostra Regione. In concreto, Assessore, a quanto ammontano questi fondi? I fondi sono 7 milioni e mezzo, mancano all'appello 1 milione, per cui devono essere messe a disposizione un ulteriore milione per completare il finanziamento di tutti i progetti che sono stati presentati. Importante è anche il coinvolgimento dei comuni interessati. Questa è una metodica che ho sempre avuto come punto di riferimento. La condivisione, ma i progetti calati dall'alto. Sono progetti che nascono dal confronto con gli interessati. È un nuovo modo, penso, innovativo anche questo, di produrre le idee e di realizzare i progetti. Far conoscere le opportunità e le risorse dei percorsi di specializzazione tecnica post-diploma, i progetti formativi del sistema degli istituti tecnici superiori su cui la Regione sta puntando. L'obiettivo dell'evento, che si è svolto questa mattina a Pescara, nell'aula magna dell'Istituto d'Arte Bellisario. Vediamo. Specializzazione post-diploma, se ne parla oggi all'Istituto d'Arte Bellisario di Pescara. Assessore Sclocco, è un argomento importante perché si parla del futuro di questi ragazzi. Gli ITS sono una soluzione, diciamo, importante, una prospettiva importante di formazione molto legata al territorio e quindi anche al fabbisogno delle imprese. La Regione ha investito negli ultimi 5-6 anni in questa formazione specifica, ascoltando appunto le imprese, circa 8 milioni di euro. oggi facciamo il punto della situazione parlando certamente ai ragazzi perché i ragazzi non sanno che possono avere questa opportunità dopo il diploma parlando anche alle imprese perché questa opportunità è anche per le imprese perché formiamo ascoltando le esigenze del territorio. Ecco perché funziona il circuito, perché sono le imprese stesse che ci dicono quali sono i fabbisogni reali del territorio. È un sistema pennato e pensato insieme alle imprese, è il primo sistema coprogettato tra agenzie educative e imprese e quindi ha quella flessibilità e quella capacità di rispondere ai bisogni del XXI secolo e di aiutare i ragazzi a guardare al futuro, prepararsi per andare in pensione dopo il 2060. Iniziativa molto seguita anche come vediamo questa mattina qui all'Istituto d'Arte. C'è grande partecipazione, c'è grande attesa. Questo ci fa piacere perché il nostro sistema è ancora troppo poco conosciuto, è giovane, ha pochi anni di vita ma deve crescere e ha bisogno di essere raccontato perché ha l'80% di occupazione dopo il primo anno. È un sistema che dà prospettiva ai ragazzi ma i ragazzi e i genitori e i docenti ancora lo conoscono troppo poco. Quindi grazie per questa partecipazione alla diffusione di questa iniziativa. Torniamo a Teramo, la città ha reso omaggio a cinque anni dalla morte ad Antonio Tancredi, politico e mecenate terramano con l'intitolazione del Largo di Porta Romana. La cerimonia si è svolta alla presenza di tutte le autorità civili e militari. Vediamo il servizio. Da oggi chiunque entrerà a Teramo dall'8.0 si troverà ad ammirare, oltre all'opera sferica del maestro Mastro Dascio, una targa intitolata da Antonio Tancredi, politico e mecenate terramano, fondatore della Banca di Teramo ed appassionato di arte. L'amore per l'arte l'ha coltivato fin da ragazzo. Dopodiché negli ultimi anni della sua vita quando la banca si era avviata lui si è dedicato molto all'arte. Posso dire che l'ultimo decennio della sua vita la sua principale occupazione è stata quella, cioè occuparsi di arte ma anche aiutare giovani artisti, scrittori, di fare produzioni culturali, presentazioni di libri, tanti. Infatti oggi leggeremo dei ricordi che sono di grandi operatori culturali di questo paese, dal maestro Delì a Giordano Bruno Guerri a Buttafuoco, che con lui si sono confrontati. L'intitolazione del Largo a Porta Romana si è svolta alla presenza di autorità civili e militari e di tanti amici che si sono stretti intorno alla famiglia nel ricordo del compianto onorevole. Chi entra a Teramo, entra in una città d'arte. Grazie ad Antonio Tancredi, politico e mecenate, così come è scritto nella targa, una persona che io ricordo da piccolo, perché io da piccolo frequentavo la sede della democrazia cristiana in Viale Crispi, con mio papà, e lui ho conosciuto lì Antonio Tancredi e già lì ho apprezzato il suo modo di essere uomo e politico. Poi ci siamo rincontrati quando io ho fatto i suoi lavori pubblici e lui era sempre molto presente a suggerire progetti e iniziative che risolvesse il problema della città. Insomma, davvero un grande politico che Teramo ha perso, forse sono passati cinque anni, ma sembra ieri, così come ha perso tanti altri rappresentanti di questo territorio, quei politici con la P maiuscola, che questa città avrà il compito e il dovere di ricordare nei prossimi anni e anche nei prossimi mesi, magari andando anche in deroga a quelle che sono un po', perché io ritengo che poi bisogna cogliere anche l'attimo giusto, il momento giusto per ricordare un personaggio politico. Teramo ne avuti tanti di personaggi con la P maiuscola che forse oggi mancano. L'Anmil, l'Associazione Invalidi e Mutilati del Lavoro, ha vinto una gara per la gestione di uno stabilimento balneare a Giulianova nella stagione estiva, stabilimento che sarà messo a disposizione di invalidi e disabili. Vediamo insieme il servizio. Dall'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Lavoro, una bella novità per la prossima stagione estiva. La possibilità di usufruire dello stabilimento balneare Elios di Giulianova in convenzione riservata per gli aventi diritto delle categorie sociali assistite. L'Unmil si è aggiudicato alla gestione dello stabilimento balneare per disabili sito a Giulianova a Lungomare Nord e quindi annuncia o il piacere di annunciare che siamo nelle fasi conclusive dell'organizzazione per dare vita dai primi di giugno a una stagione importante, importante per le categorie sociali, importante per le istituzioni, importante per l'intero territorio terramano e abruzzese. Importante perché? Perché il progetto prevede una serie di iniziative tematiche importanti che coinvolgono non soltanto le categorie sociali e quindi i disabili, ma anche i cittadini di ogni età. E quindi siamo qui per dire che siamo nella fase conclusiva dell'organizzazione, tutti quelli che non hanno ancora fatto la richiesta di adesione e intendono farla si debbono assolutamente sbrigare perché abbiamo già un numero elevato di aderenti ad oggi. Presidente, se ci può dire come fare richiesta? Allora, presso lo stabilimento balneare ci sono i moduli oppure qui nella nostra sede in via Francesco Franchi 25. Abbiamo così deciso di partire con sabato 3 giugno, quindi prima vengono e meglio è. Andiamo avanti con il nostro giornale. Torniamo all'Università di Teramo dove è stato presentato un volume sul pensiero di Giovanni Gentile scritto da Vito De Luca, dottore di ricerca in linguaggi politici. Nel corso dell'incontro con gli studenti in Scienze della Comunicazione è stata evidenziata l'estrema modernità del pensiero di Gentile che già allora si poneva al di là della destra e della sinistra come oggi fa il premier francese Emmanuel Macron. Sentiamo il servizio. Analizzare i linguaggi politici del passato e del presente, scoprire la modernità di un grande pensatore della storia italiana come Giovanni Gentile che è sempre andato oltre, al di là della destra e della sinistra. È il tema dell'incontro che si è tenuto alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo al quale ha partecipato Vito De Luca, giornalista, scrittore e dottore di ricerca che ha presentato un suo recente volume proprio sul pensiero e il linguaggio di Gentile. In che cosa Giovanni Gentile è attuale? Come preferisce lei attualista? Sì, attualista perché è il filosofo dell'atto. Da questo punto di vista può essere anche interpretato come quel pensiero che è contemporaneo, moderno. Gentile è al di là della destra e della sinistra. Sì, è al di là. Sì, è la tesi di questo libro perché io riprendo una frase sua che pubblicò sul resto del Cardino nel 1919. Lui si è autodefinito più socialista di Lenin più liberale di Wilson. Quale sarà il primo messaggio che darà ai ragazzi oggi? Beh, ecco di riflettere sempre su se stesso. Il messaggio è questo cioè una riflessione interiore perché Gentile prende spunto da Agostino e quando parla di in interiore, omine. Che significa questo? Guardarsi dentro. Le giovani generazioni sono particolarmente interessate a scandagliare i segreti dei linguaggi politici e a capire quali riescono a far sfondare o quali invece ad affondare candidati e partiti. Qual è il linguaggio della politica più giusto? È una domanda alla quale probabilmente questa intervista non basterà a rispondere. Certamente il libro che esaminiamo oggi in questa presentazione il libro di Vito De Luca sulla figura di Giovanni Gentile può darci una idea di come si possano affrontare i linguaggi della politica con metodo filologico e correttezza. Se lei dovesse analizzare il linguaggio politico che usano oggi i nostri politici come lo giudica? Il seminario di oggi è presentato dal professore Adolfo Noto che è un amico e collega il quale già nel 1994 scrisse un saggio molto interessante sulla rivista L'Angellotta e Nausica analizzando e prevedendo la vittoria elettorale di quella formazione politica che vinse utilizzando un linguaggio proprio del linguaggio sportivo. Non vi dico quale formazione politica fosse però quella previsione di un linguaggio molto diretto fu in effetti vincente. È stato inaugurato domenica scorsa in Viale Kennedy a Pescara il Laboratorio delle Idee quale nuovo spazio di attività psicologiche di espressività emotiva dedicato ai bambini agli adolescenti e alle famiglie ne abbiamo parlato con la responsabile Margherita Jezzi del servizio di Paolo Sinibaldi. Margherita Jezzi come nasce il Laboratorio delle Idee? Sicuramente da tanti e tanti anni di studi e di esperienza ma perché nasce proprio adesso? Il Laboratorio delle Idee nasce adesso dopo tanti anni di esperienza all'interno del Laboratorio Psicoanalitico che è situato al primo piano all'interno del quale io lavoro dal 1993 come psicoterapeuta dell'età evolutiva insieme alle colleghe e naturalmente è nato in questo momento proprio perché ci sembrava il momento giusto dopo tanti anni di lavoro per dare un luogo appropriato a delle situazioni che avevano bisogno di essere differenziate da un luogo clinico il Laboratorio Psicoanalitico è prettamente un luogo clinico quindi un luogo dove le persone si recano per dei disagi psicologici e per essere curate ci sembrava molto importante offrire un luogo dove il modello psicoanalitico al quale noi facciamo riferimento potesse trovare la sua espressione in maniera anche più vicina al quartiere più vicina alle persone più vicina ai bambini che ci sembravano anche la fascia più raggiungibile attraverso i laboratori e quindi c'è stata questa favorevolissima opportunità di un locale così vicino anche fisicamente al laboratorio psicoanalitico e abbiamo pensato di offrire alla nostra utenza e anche a un'utenza nuova degli spazi differenziati con questi laboratori i tormenti del giovane Kilgren scritto dall'imprenditore italo-svedese famoso per aver rivitalizzato con il progetto di albergo diffuso Santo Stefano di Sessanio in provincia dell'Aquila è stato protagonista di uno degli appuntamenti del Maggio Fest vediamo l'opera di Daniele Kilgren è un volume particolare non è né un saggio né una autobiografia è il racconto di una vita di una vita dedicata anche alla ricerca della bellezza dedicata alla ricerca di un abbraccio universale sia che l'autore passi attraverso situazioni di degrado sia che porti avanti un discorso come quello che sta portando avanti legato al Ruanda e alla possibilità di salvare tantissime vite umane e così come ha salvato Santo Stefano di Sessanio dall'abbandono così come sta salvando dall'abbandono i sassi di Matera Daniele crede che si possa salvare e sta facendo di tutto si possa salvare anche l'Africa e gli abitanti di quelle terre tanto rigogliose quanto povere un libro abbastanza prosaico nel senso che parto dal progetto di recupero del patrimonio storico minore il primo esperimento è Santo Stefano di Sessanio il secondo i sassi di Matera e poi continua in una specie di senza nessun senso senza nessuna direttiva senza nessun filo conduttore però in tali spazi semiserio del mio animo del mio sentire fino a aspetti proprio un po' patologici in Ruanda per la sonorità di base tramite la situazione sanitaria è un progetto che stiamo facendo da 10 anni io sono stato povero grazie a tutti quei progetti cui dicevo prima e quindi adesso ho bisogno del sostegno di tutti e venerdì faremo la Serena Majestica a Montesilvano al Serena Majestica alle 19 venerdì un aperitivo solidale quindi per aiutare veramente perché c'è gente che muore nell'Africa centrale per malattie curabili con pochi dollari con gli antibiotici gli antimalarici ed ora siamo alla pagina dello sport iniziamo dalla Serie A e dal Pescara che inizia a pensare seriamente alla prossima stagione e soprattutto in chiave mercato il giovane senegalese Coulibaly è entrato nei radar della Juventus con cui il Delfino potrebbe intavolare un discorso più ampio proprio per la compravendita di altri giocatori vediamo il servizio di Jacopo Forcella Coulibaly Juventus per rinsaldare un asse con i bianconeri che potrebbe portare in casa Pescara i rinforzi che Zeman chiederà certamente che siano in grado di rivoluzionare una squadra e una rosa che il tecnico boemo in più di una circostanza ribadito non adatta al tipo di calcio che ha in mente il giovane senegalese esploso definitivamente nella seconda parte di questa stagione attira inevitabilmente l'interesse del club bianconero possibilista anche rispetto all'eventuale richiesta del Delfino di lasciarlo ancora una stagione in rival adriatico per aiutarlo nella maturazione e nella definitiva consacrazione è altrettanto evidente che la dirigenza biancazzurra proverà a mettere dall'altra parte della bilancia alcune delle pedine che il club campione d'Italia ha già prenotato come l'esterno dell'Ascoli-Orsolini che in un tridente ci starebbe davvero bene è chiaro che specialmente nel reparto offensivo ci si prepara un forte restyling con l'arrivo di Leonardo Mancuso che anche nei play-off di Lega Pro continua a mostrare tutto il suo valore Cavrare andrà via destinazione Milano Spondanera-Azzurra Buyback tornerà alla base mentre per Gilardino il discorso attiene essenzialmente la volontà di Zeman di dargli un'altra possibilità dopo l'esperienza negativa di questo inizio 2017 il nome che piace a tutti per sostituirlo per fare boa del reparto offensivo è Simone Ganz proprio del club bianconero e che in questa stagione a Verona ha messo insieme 21 presenze con 4 reti dovrebbe rappresentare quello che all'epoca fu Ciro Immobile ai margini nel 2011 del progetto Juventus su Cristiano Biraghi invece ci sarebbe stato un abboccamento dell'Udinese che potrebbe inserire come contropartita il difensore Coppolaro quest'anno in prestito a Latina sotto la gestione di Vincenzo Vivarini intanto lui è di sera alla penultima stazione di una via Crucis che sembra non avere mai fine contro il Palermo che sarà l'avversario più accreditato per lottare al vertice del campionato di Serie B questo pomeriggio intanto la formazione via Cazzurra sarà impegnata in un'amichevole a Piscina prima degli ultimi 180 minuti di una Serie A che stancamente si chiude nella maniera peggiore sperando di darsi presto un'altra opportunità Ed ora scendiamo in Lega Pro il difensore del Teramo Nebil Kaidi a poche ore dalla prima sfida contro il Lumezzane carica i suoi in vista di un play-out che i biancorossi non potranno fallire vincere vincere e salvarsi basta non c'è non c'è altro altro a cui pensare anche in questo momento siamo di fronte a due partite che decidono non solo una stagione ma il futuro di ognuno di noi e noi intendo giocatori città presidente direttori tutti quindi c'è poco da dire da andare in campo e da fare una grande partita penso che il Teramo non debba assolutamente pensare ai due risultati ma a chiudere il prima possibile la pratica e cercando di dimostrare sul campo il nostro valore ecco mi auguro che il Teramo sia quello delle ultime giornate al di là poi si voglia dire risultati magari potevano essere meglio però se andiamo a guardare abbiamo sempre avuto le nostre occasioni per vincere le partite e abbiamo subito meno quindi sarebbe ottimo fare un tipo di prestazione domenica come abbiamo fatto le ultime e forse anche qualcosa di più perché sicuramente play out è un campionato a parte ecco loro è una squadra da quello che mi ricordo si difende molto bene dietro c'ha due ottimi difensori è una squadra compatta che riesce a sfruttare le ripartenze c'ha gli esterni forti e comunque è una squadra che in campionato ci ha portato via quattro punti cioè quindi è una squadra da non sottovalutare ma allo stesso tempo da non aver paura ecco e prosegue a Pescara il progetto Solidarietà fa sport fortemente voluto dall'assessorato comunale alle politiche sociali per far condividere ai ragazzi delle scuole cittadine la gioia di praticare una disciplina affinché si superi anche la disabilità è un progetto che abbiamo ideato come assessorato alle politiche sociali del comune di Pescara per mandare due messaggi essenziali ai nostri studenti è quello che nonostante le difficoltà e gli ostacoli si possono raggiungere dei grandi risultati attraverso lo sport e l'altro il messaggio del rispetto per ogni persona anche chi ha forme di disabilità in questo progetto noi abbiamo siamo andati in tutte le scuole di Pescara fino ad oggi a partire da gennaio siamo stati in 102 classi coinvolgendo oltre 2500 ragazzi e mandando questi messaggi grazie alla collaborazione di associazioni per disabili che si occupano di sport sono veramente persone straordinarie molto positive e il riscontro è stato veramente bello importante grazie anche alla collaborazione degli istituti scolastici che hanno reso possibile l'incontro con gli studenti il nostro scopo è quello di far conoscere lo sport che sono tantissimi gli sport che possono praticare in questo caso gli ipovedenti o i non vedenti e in questa occasione appunto con l'assessore Alegrino ci ha dato la possibilità nelle scuole che se vogliamo è un punto proprio di partenza dove uno va a seminare effettivamente un qualcosa perché sia per le scuole magari non c'è questa conoscenza diretta degli sport praticati dai disabili come in questo caso disabilità visive e anche magari anche proprio per i ragazzi che magari si possono trovare in contatto con non vedenti o ipovedenti sanno come comportare esatto è un modo anche per esempio io ultimamente ho partecipato perché il judo la cosa bella di judo è che ti dà la possibilità di partecipare a competizioni proprio con i normodotati lo sport in primis gli entusiasma quando sono state coinvolti dal comune poi per quel progetto sono andati allo stadio al palazzetto a vedere la finale di Coppa Italia di basket in carrozzina sono proprio tornati entusiasti e anche adesso per questa iniziativa veramente sono molto sensibili a questo ed è importante per loro capire che attraverso lo sport e con grande impegno e passione si possa arrivare anche quando si hanno delle difficoltà e delle disabilità è tutto anche per la terza edizione del TG6 i prossimi appuntamenti con la nostra informazione sono domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa di mattino 6 e poi con le tre edizioni del telegiornale alle 14 alle 19 e alle 23 grazie per averci scelto vi auguro una buona notte a chi Grazie a tutti.